Io non voglio che le mucche siano la mia vita. Cioè a me quando mi dicono ah stai bene su lì non ti rompe le balle nessuno io rispondo magari mi rompessero le balle cioè non sono qui per una fuga io sono qui per vivere di più quello che mi è stato dato. Quando sono sotto la mucca a mungerla non mi sento fuori dal mondo cioè anche quello per me è il mondo anche quella realtà. Il bagno per esempio è di fuori d'estate è anche bello e romantico d'inverno un po' meno. Qui lavori come un toro però alla fine del mese è tosta se riesci a portare a casa qualcosa. Questo genere di vita chiede per sua natura sacrifici in mani però uno non si immola per il proprio lavoro. Non è un lavoro normale. Lavoro normale a Pasqua sei a casa, la domenica sei a casa e se sei malato non sei malato. Chi potrebbe fare con gli animali che mangiano tutti i giorni anche a Natale purtroppo. Cioè ti chiede tanto insomma. Lavori con un pezzo di legno che metti lì e sta lì fermo se tu lo rimetti in piedi sta in piedi. Cioè lavori con una vacca se gli dici vai di lì lei va di là, se gli dici vai di là va di lì. Quindi ha un rapporto abbastanza movimentato diciamo. Capisci se una vacca in quel giorno ha mangiato o non ha mangiato. Cioè sei praticamente in sintonia. Io quando entro in stalla e vedo le mie vacche da latte a me brillano gli occhi. Io amo quegli animali non so perché. Tu qui ti rendi conto che anche nell'animale c'è una durezza. Cioè l'animale è quello che ti dà lavoro è quello che ti dà lavoro ogni giorno. Non sempre risponde come tu vorresti o l'animale lo munge non sai perché c'è il giorno che ti tira un calcio e tu dici ma... Non esiste il cane da compagnia, esiste il cane da pastore che ti dà una mano. Dato che i nostri cani di mani zero... Il quotidiano è logorante. Sicuramente questa benedetta vita agricola ti chiede di convivere con l'attesa. Secondo me passa veloce, molto veloce. Cioè se pensi che mi sembra ieri che sono venuto qui è già due anni che sono qua. Si invecchia presto insomma. Beh la giornata inizia prima col caffè perché senza caffè è una tragedia. E poi subito in stalla, subito mungitura, quindi sistemazione animali, pulizia, mangiare e poi si lavora al latte. Mungiamo mediamente 6-7 animali, quindi lavoriamo circa un quintale di latte al giorno. 3-4 ore sono dedicate tra la mungitura, il formaggio, la sistemazione della cantina. Tutte le mattine diciamo fin verso le 9.30-10 siamo dediti a questo. Prima sei sporco in stalla, dopo dovresti entrare pulito in casificio. Metti il caglio, aspetti che caglia e torni in stalla. Quindi anche questo è una roba che vale. Tutta l'altra parte del lavoro è dedicarmi alla cura del prodotto, alla vendita del prodotto, a star dietro alla cura di quello che i bricconi devono diventare, per cui costruzione di una stalla nuova, per cui ristrutturazioni, per cui opportunità da cogliere. Tutto questo per me è un lavoro. Qui è rimasto praticamente quasi nessuno a gestire questa contrada. L'ho vista proprio morire. E l'ho vista che se fosse andata avanti ancora così per qualche anno, a questo punto a bricconi ci sarebbe stato solo rovine. Sono arrivati questi ragazzi con un progetto ambizioso, devo dire. Però rendiamoci conto che qui la poesia non c'entra niente. In montagna bisogna fare fatica. Questo luogo ha l'unicità di un'attività agricola vera, cioè che esiste, che uno tocca con mano, e edifici che hanno 5-6 secoli di storia. È un bel compromesso tra la civiltà non è poi troppo così lontana e siamo fuori dal mondo. Io vorrei, per esempio, la stalla nuova che nasce. Inserendo il nuovo, si legga che il nuovo è nuovo e che il vecchio è vecchio. Io non posso oggi costruire una stalla che mi richiede un numero di ore di lavoro per vacca, che è quello che chiedeva 50 anni fa una stalla. Il muoversi in questa situazione è complicato, perché abbiamo anche alpeggiatori giovani che però si comportano come 200 anni fa. E questo non va bene. Non è che basta mantenere uno status quo, quindi c'è l'agricoltura, quindi siamo tutti contenti. Perché se poi quell'agricoltore fa la formagella piena di escherichi a coli e al milanese viene la dissenteria, non è perché il milanese pota le usa maia che è la roba zosolè, no, sei tu che mangi quella roba zosolè. Perché lui mangia normale il territorio, il ritorno, le cose, il turismo, la montagna, le orobbie. Sono tutte balle, sono tutte balle perché quello che manca è la persona. Perché la gente dovrebbe venire in Val Seriana? Io me lo chiedo con dramma ogni tanto. Perché dovrebbe venire qui? A vedere cosa? A incontrare chi? Qual è la nostra ricchezza? È quella che la città è lì. Basta dire che la tradizione va bene ad ogni costo. Poi almeno uno la fa per facci, certo? No, non li sbaglià. Mi viene ogni tanto da ostentare la diversità. Ti giuro, mi verrebbe voglia di allevare vacche fluorescenti per creare scandalo. Basta, non se ne può più. Bisogna educare le persone a incontrare le persone. Bisogna insegnare agli agricoltori quattro parole in inglese. E in italiano bisogna uscire da questo piccolo mondo che a me soffoca. Si deve creare un circolo virtuoso di apertura in cui si supera l'invidia, in cui si supera questo volerti in qualche modo da una parte stimarti, ma dall'altra come ogni tanto dei momenti in cui hai la sensazione che ti si voglia vedere un po' morire. Continuamente senti in questi posti a ripetere il cinico ritornello La migliore società è un numero dispari inferiore di tre. Chi l'ha detto? Penso che al giorno d'oggi quando qualcuno dice Contrada Bricconi pensi al Giacomo, al Matteo, non ai quattro sassi che ci sono delle quattro case. Cioè spero almeno. E secondo me se non ho mollato adesso diciamo che non mollo più. yeah Grazie a tutti Grazie a tutti